vai scari a uno ma se lo facciamo a me ma se lo sa fa di non ti fa roba ahahahahah no ahahah 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 vai marco no no marco un po' eh ma tu una gamba se ce la fai con una gamba no ahahah ahahah vai marco ahahah ma marco rosa vai manuele vabbè vai ciao marco ahahahahah Purtroppo! Sì! Vai San Panino! Ma tu non ti ripari ci dà delle cose, ci davvero ci dà! Aio tu manda? Non ti manda con me la Liglia, ti va! e io non mettiamo a mano facciamo le linee tipo quello che si deve passare a 4 non vogliamo fare ma vai 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 ma si fa male così eh ma no no ma 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 non ce la faccio ma 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 va ma ah ah Uhohohoho Che caro quello Vai, bambami, bambami No, vai, schai la carattura da me La fa tutto male molto Vai, secondo me, dai molto Divendini male, divendini male No, vai No, vai No, vai, c'era una cosa Guarda, guarda, guarda Questa faccia, faccia e vuoi ottaa tutti i scea fatti all'anno e vuoi sassi un'esco a fatti e vuoi sassi un'esco a fatti e vuoi ottaa l'anencaa tulo il sceo e l'anencaa tulo il sceo fatti fatti